Sono un po' per due mare qua e non ti può fare Vabbè, vabbè, chiudereai questa cosa Ma ci puoi promettere dei versi per breve? Sì La mano a vinta C'è l'ora Hai roba bella? Sì Grazie a tutti. La gente sta lavorando con il PSV perché l'Atalanta insiste con l'Atalanta perché l'Atalanta insiste con l'Atalanta perché l'Atalanta è un po' di forza per l'Atalanta e di difficoltà per quanto riguarda i tempi per il PSV perché se l'Atalanta molla il giocatore e il giocatore si impunta per continuare a rinnovare in città e in Tchilamo si resta il PSV e vanno a trovare solamente il contratto. Scrivono così, traducono, sembra finito, è l'unico europeo, finito, brava, è così, poi tradotta letteralmente in italiano, capite che il testo... ... 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 adesso noi usciamo da qua andiamo da Save the Duck che si trova in via Dante al 3 ragazze la cosa non è la disgrazia è il vivere come Cristo controcorrente cioè scegliere completamente diversa i veri diversi sui cristiani Radio Frezza libera come noi la ripresa dell'economia europea di propria pandemia tra i temi e il centro del primo discorso sullo stato del muro di Ursula l'economia europea di un'esplodio si lo faccio la ripresa dell'economia europea ma non è la prima